E torniamo all'elogio, l'elogio della Bagnacauda, un prodotto di vera eccellenza, tanto da meritare addirittura una vera e propria aggregazione. Ne parliamo e la rappresentiamo agli amici di liberi.tv? Allora, la Bagnacauda sta ritornando come tutti i vecchi prodotti poveri dove sembrava quasi vergognarsi di mangiare. Prodotto di aggregazione perché arriva dalla storia che durante l'inverno non c'era poi più nulla da mangiare se non le erbe e quei prodotti talmente immangiabili, duri. Queste sono state un po' le vecchie massaie che hanno saputo creare queste salsine da coinvolgere tutta la famiglia e poter comunque mandare giù un qualcosa anche dove si potesse riempire lo stomaco con qualcosa per tirare avanti. Anche questo vuol dire la Bagnacauda. Invece noi parliamo del territorio che oggi viene rappresentato, cioè faula. Abbiamo raccontato di Carignano, abbiamo raccontato della morra. Stiamo naturalmente parlando del Piemonte e di alcune sue realtà veramente eclatanti anche proprio dal punto di vista della produzione agricola. Allora, dipingiamo Faule. Faule, piccolo borgo, ha trovato nella Bagnacauda, essendo talmente piccolo che non riusciva, forse non aveva nulla. Se non questo piatto facendolo così un po' per tra amici è iniziato a aprirlo nelle sagre per poter fare qualcosa ed è riuscito a fare un qualcosa di talmente grande dove ci sono tante persone dove a casa forse il prodotto non riescono a farlo e vengono a mangiarlo da noi con dei risultati, diciamo, oltre le più rosee previsioni perché i numeri sono qualcosa che uno non ci crederebbe. Ecco, la Bagnacauda, questo lo diciamo per gli amici di Liberi.tv, è uno di quei prodotti che va mangiato espresso, cioè non ce lo possiamo andare a prendere a Faule e portarcelo. Lo dobbiamo consumare lì, questa sera qui, perché sono arrivati gli ingredienti. Però ecco, è un esempio di un prodotto che va consumato nel luogo dove viene preparato. Va consumato e soprattutto preparato perché ci sono delle settimane, se non dei mesi, addirittura prima di preparazione per i prodotti, perché tutti i prodotti vengono preparati molto prima, dall'aglio, la dissalatura dell'acciuga, tolto il filetto, perché l'acciuga, ricordiamoci, è quella salata, perciò deve essere divisa, perciò tutto è un lavoro molto lungo che unisce di sera, un po' come si faceva tanti anni fa che la gente si ritrovava a spannocchiare il mais. Adesso la gente si ritrova a pelare l'aglio e pelare le acciughe, sfilettando le acciughe per poter fare gli ingredienti, materie prima, per poter fare questo piatto che il mondo, io dico il mondo, si sta cosendo di quanto sia importante. Adesso noi allarghiamo gli orizzonti di Libri.tv e andiamo in sala per una ripresa conclusiva. Grazie a tutti.